Nasce davanti alla piazza del centro commerciale di Sant'Orso al piano terra per dar modo a tutti di poterne usufruire il nuovo UPS, l'ufficio promozione sociale del comune di Fano. Sabato scorso alla presenza del sindaco e dell'assessorato è stato inaugurato il nuovo locale che va così a sostituire gli uffici al primo piano dell'edificio a fianco. Obiettivo della nuova struttura quello di accogliere le persone e i cittadini che hanno bisogno di informazioni, conoscere l'operato dei servizi sociali o chiedere assistenza. Questo è il senso di un cambio di passo anche nell'approccio, in un approccio nuovo che vuole essere quello del servizio sociale associato d'ambito. Questo sarà il primo punto, poi dopo ne seguiranno nel 2021 altri, in altri comuni dell'ambito sociale 6 ed è un punto importante perché è un punto accogliente, accessibile, inclusivo. Gli orari di apertura dell'ufficio promozione sociale di Fano sono il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, mentre il martedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. C'è grande soddisfazione, esclama l'assessore Tinti, perché l'ambito sociale territoriale è entrato a far parte della rete nazionale dei costruttori di gentilezza. Noi da qualche giorno siamo di fatto ambito 6 gentile, quindi è davvero il senso di un approccio nuovo, più empatico, più coinvolgente, più aperto e accogliente, perché questo punto rappresenta davvero un esempio concreto di questa apertura, di questa disponibilità. qui lavoreranno due operatrici che accoglieranno gli utenti, i cittadini e poi due assistenti sociali. È tra l'altro un progetto nato insieme a una coprogettazione con una cooperativa, la cooperativa Opera, ed è davvero il segno concreto di un ambito, quindi di un servizio sociale d'ambito che vuole essere aperto, disponibile, inclusivo e quindi gentile.